Addio vecchie feste di compleanno a scuola con i bambini che orgogliosi portano le torte preparate da mamme e nonne. Sono ricordi affidati alle fotografie. I tempi sono stretti, quasi magri, meglio rimanere in linea sin da bambini. Scherzi a parte, una disposizione dell'Unione Europea recepita in Italia vieta di portare in classe in occasione di compleanni e ricorrenze prodotti da forno di pasticceria fatti in casa e comunque senza liquori, crema, creme al burro, panna e cioccolato. L'Istituto Comprensivo di Gioio Samarea, forse per primo, ha reso pubblica la circolare restrittiva che ha suscitato dubbi e parecchi malumori. Ma a quanto pare la legge è proprio questa, come ci spiega il nuovo dirigente Leon Zingales. Purtroppo c'è un regolamento, un regolamento c'è, il 52 del 2004, e noi siamo obbligati, dura l'ex, sed l'ex, ad applicare queste norme. Gli alimenti casalinghi nel 99% dei casi sono migliori, non c'è dubbio. Però c'è sempre il restante 1%. È possibile che contengano bacilli anerobici, quali per esempio il botulino, eccetera, quindi i forieri, i vettori di intossicazioni, di epidemie, eccetera. Le regole sono più o meno uguali in tutte le scuole. Ma se una mamma le portasse una torta fatta in casa, l'accetterebbe? Io ho detto che purtroppo sono obbligato a rimandarle indietro, infatti non lo fanno più. Per i prodotti che invece provengono dalle pasticcerie, che sono quindi dotati della cosiddetta tracciabilità, nessun problema. Lì noi siamo garantiti dalla riconoscibilità e dalla tracciabilità dei prodotti, perché la pasticceria automaticamente deve rispettare standard igienico-sanitari associati al regolamento di qui sopra.